Chi è che sta giocando? Come va il gioco? Male, tanto male Perché va tanto male? Perché è la prima volta che ci gioco Senti, ma ci vieni spesso in piscina? Sì, quasi sempre Vieni con gli amici, con la famiglia? Beh, spesso con gli amici e qualche volta con i cugini, la sorella, ecco, questa è mia sorella Come è andata la partita? Male, 3 a 0 Buona giornata Allora, come va questa giornata? È fantastico, è una bella giornata E state all'ombra? Sono all'ombra perché troppo sole ci fa male No, perché stiamo a tuffare fino adesso, allora siamo stancai, siamo venuti qua a riposarci un pochino e a mangiare Le vacanze le farai oppure le trascorrerai sempre in piscina? Queste giornate Le vacanze in verità già le ho fatte Però può darsi che con questi amici andiamo in Sicilia a trovare il mio cugino Che sa lavorare giù Senti, che giudizio dà di questa piscina di Terni? Di questa che poi non è l'unica? Questa è una bellissima piscina per divertirsi Io penso che c'è tutta la gente che dice che questa piscina ha l'acqua fredda, che è sporca Non è vero Cioè tutta quella gente che non riesce a divertirsi perché vuole solo, non sa nuotare, allora va sull'acqua bassa Allora io preferisco andare allo staglio Chi sa nuotare, chi sa fare due tuffi Io per me preferisco questa piscina Come faccio io, è una settimana che c'è anche Senti, ti piacerebbe che questa piscina fosse aperta anche dopo scena? Cioè fino a mezzanotte l'una? Sì, sarebbe molto bene, però sarebbe meglio che scaldare un po' l'acqua se ne fa proprio di sera Perché se no è freddo L'unico problema è questo? Sì, l'unico problema è questo, se no è bellissimo Senti, quale di questi ragazzi mi consigli di intervistare? Quale che merita? Lui, lui, lui che è un grande Un grande Un grande Lui è un grande Lui dice che è grande, per quale motivo? Perché sono ad 1,62 Un bicchietto per quello Senti, tu sei in piscina però sei abbastanza coperto, cappello, t-shirt, ecco Beh, già sono nello per condivino Perciò il sole mi rimbalza, allora mi resta qui Ma ditemi una cosa, vedo tutti i maschietti Ma le bimbe, le bambine, le ragazze state in ferie? L'abbiamo lasciata a casa, ma io così No, perché ci hanno buona dell'acqua alta Ma non passano là Ancora hanno deciso che non è buona di pranzo L'unico c'è sì Anche perché poi ero tre e mai che fa il bagno, perché fa passare tre ore, è normale Certo, e siete tutti di Terni? Terni è fuori, dintorni Cioè? L'Ugnola Confine con Lazio E tu personalmente? Io L'Ugnola personalmente Quindi? I Terni però so abitare su, dai nonni Come si sta a L'Ugnola in questo periodo? Beh, insomma, c'è molto più fresco di Terni, è normale, però la temperatura non è che cambia tanto È collina, non è montagna E ancora una cosa, come trascorrerai il pomeriggio? Resterai qui fino alle sette, fino alla chiusura, oppure no? Penso sì, fino alle cinque e mezza, sei Perlomeno fino a quando non siamo cotti abbastanza Dove possiamo anche andare Buona giornata Grazie Signora, buongiorno Come va la giornata? Sì, bene, sì Lei non è italiana? Io è tedesca Come mai? Una domanda scontata, come mai in città? Perché mia nipote è mezza italiana, mezza tedesca Papà è adesso qui Anche nonna, sì Poi è solo una vacanza Cosa sta preparando per i suoi nipoti, mi diceva? Sì, per Branzo, allora Perché Branzo l'italiano o la tedesca? No, metà, metà Poi non può parlare italiano, capito? Perché mia nipote parla perfetto italiano Io no L'ha fatto il bagno? Io no Lei non lo fa? No Solo il sole Solo sole? Sì I bimbi invece hanno fatto il bagno, tu l'hai fatto? No Come mai? No, non c'ho voglia Non hai voglia Senti, sei venuta con loro due basse in piscina? Sì E come trascorri la giornata? Che porti dei giochi oppure fai solamente il bagno? No, faccio solo il bagno E hai degli amici qui? Vengono dopo Che tipo di pasto state consumando? No, senza italiano o senza tedesco Perché è un altro mangiare in Germania, capito? Mi è sempre precisa Alle 1 qui a Branzo Alle 8 cena Perché in Germania fame E mangiare Niente fame, niente Branzo, niente cena, capito? Senta signora, ma lei è tedesca Con questo caldo come va? Lo sopporta? No, niente problemi Anche in Germania adesso è molto caldo Io niente problemi Nessun problema Di quale città è? È a Bochum È 100 km più colonia Benissimo, buona giornata Grazie Buongiorno Allora, è il primo pranzo in piscina questo signora? No, è il secondo Quindi è un'esperienza positiva Bisogna tornare in piscina per consumare anche il pasto Sì, certo Che cosa avete preparato a casa per poi mangiare qui? Ma per le bambine piccole Posta asciutta, un primo piatto Per noi adulti, un panino e via I bimbi quanti anni hanno? Lei 22 mesi E lei 4 anni e mezzo Naturalmente possono fare il bagno Solamente in questa piscina Rigorosamente Lei la porta con me nella piscina dei grandi Però viene con me Senta, le piace questa piscina? Io la conosco Perché noi eravamo molto piccole Non ci sono trovata sempre bene E ci ritorno volentieri Certo E domani domenica Che cosa pensate fare? Domani in montagna Dove? Ai prati Di stroncone Le vacanze, le ferie? Le ferie già fatte Noi siamo stati al mare Per cui Questi sono gli ultimi giorni di ferie Dove siete stati in vacanza? A Riccione Il mare è pulito o non pulito? Non tanto Non tanto Però ci avevamo anche noi La piscina in albergo Per cui il pomeriggio Lo dedicavamo esclusivamente Alla piscina In albergo Bene Io la ringrazio E la lascio al pranzo Parliamo anche con Filidei Il segretario del circolo ILVA Per conoscere qualche cosa in più Rispetto a questa piscina Che è una sede tradizionale Per l'estate ternana Prima di tutto L'apertura è stata Leggermente posticipata Quest'anno Al primo luglio Perché? Sì I problemi sono stati diversi Principalmente è stato Dipeso dal fatto Che il circolo dell'ILVA Non c'è più dipendenti Dell'ILVA Dell'ex eterni Per cui C'è stato un attimo Di ripensamento Per vedere se era il caso O meno di aprirla Poi naturalmente È per l'alzo Buon senso per aprirla Però Siamo stati costretti A trovare Una ditta Una cooperativa Che facesse il servizio Al posto nostro Ecco A questo punto Che la piscina è aperta Si può ipotizzare Per esempio Un'idea frattante L'apertura di questa piscina Fino a mezzanotte Luna La possibilità quindi Di godere di questo spazio Fresco Anche la sera Sì Questa è stata Un'idea Di molti anni fa Che non si è mai realizzata Quest'anno Stiamo cercando di farla Stiamo predisponendo La piscina Perché l'impianto Di illuminazione Era insufficiente Quindi abbiamo già Predisposto L'illuminazione Ora appena sarà pronta Sarà fatta anche L'apertura Fino a mezzanotte Quest'anno Quest'anno Si prevedono delle serate Piano bar Qualcosa del genere Comunque Naturalmente Le organizzerà La cooperativa Che ce l'ha in gestione Poi farà Come meglio crede Insomma Teneteci informati Certo Questo l'abbiamo già fatto Anche Con comunicati precedenti Quindi Se avete sempre informati Di tutto Quello che succede Grazie